Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Undici misure cautelari di cui otto arresti, sequestri di beni per due milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto, il tutto per smantellare il giro d'affari della cosiddetta società foggiana, infiltratasi anche in Abruzzo. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara con il supporto del reparto operativo aeronavale e la collaborazione dei colleghi di Foggia hanno eseguito lungo l'asse adriatico i provvedimenti disposti dal GIP del Tribunale dell'Aquila nei confronti di personaggi di spicco del clan Moretti Lanza Pellegrino che agivano anche nel pescarese con attività di usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni. Nelle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia sono state analizzate intercettazioni telefoniche e ambientali di oltre 700.000 conversazioni. che hanno svelato i rami del business della cosca foggiana. Degli otto arrestati, metà sono in carcere, metà ai domiciliari, oltre a un obbligo di dimora e due obblighi di firma. Un giro d'affari milionario, il loro che nel tempo ha consentito agli strozzini di entrare nel tessuto socio-economico del capoluogo adriatico, inquinandone con il metodo mafioso la realtà produttiva. Tra le vittime anche una nota famiglia di imprenditori del settore della ristorazione, a cui venivano chiesti tassi di interesse fino al 600% al mese. Per un prestito di 100.000 euro, infatti, non potendo onorare il debito, gli imprenditori sono stati costretti a simulare un comodato ad uso gratuito a tempo indeterminato prima e un contratto di affitto dopo dell'appartamento di proprietà nel centro di Pescara, del valore di circa 500.000 euro. In molti casi, poi, alcuni imprenditori sono stati bersaglio di minacce, aggressioni ed estorsioni. Altri hanno dovuto assumere come dipendenti i loro usurai o persone a loro riconducibili. L'impiego, spesso puramente formale, ha permesso a qualcuno di questi anche la percezione in debita dei contributi previsti per il sostentamento dell'emergenza Covid senza mai andare a lavorare.